Per la prima volta un medico piacentino entra nel Consiglio Nazionale del CIPOMO, un importante organo istituzionale che ha come lo scopo la tutela dell'oncologia, la promozione della ricerca scientifica, la centralità dei malati oncologici. È il professor Luigi Cavanna, primario del reparto di oncologia dell'ospedale di Piacenza. È stato eletto nel Consiglio Nazionale del Collegio Italiano Primario Oncologia Medica e Ospedaliera durante il XXIII Congresso Nazionale a Lecce dal 16 al 18 maggio. Grazie a lui le problematiche dei malati saranno centrali. E se nel Consiglio Direttivo si può avere voce in capitolo per parlare col Ministero della Salute, col Ministero della Ricerca e dell'Università e quindi penso di poter essere utile proprio anche al territorio di Piacenza. Soprattutto portare i problemi che vivono i malati, quindi avere i farmaci innovativi nell'immediato, avere possibilità anche regolatorie per le persone malate di tumore riguardo alla vita di tutti i giorni, al lavoro, all'assenza del lavoro e tutto. Quindi sono tanti i punti che dobbiamo portare avanti. Anche di recente le statistiche che ci hanno parlato della mortalità elevata nella nostra zona, come città importanti come Pavia o Genova o Ferrara. Quindi è per quello che l'impegno devesse davvero 360 gradi. Non si fa mai abbastanza. Da un lato stimolare i giovani a impegnarsi di più, dall'altro lavorare sulla prevenzione, dall'altro lato ancora cercare di avere delle diagnosi precoce.